Comincio con il dire che questa non è una lezione nel senso canonico del termine, nel senso che io non ritengo di dover insegnare nulla, vi mostro un po' il mio utilizzo di Ableton all'interno di un paio di situazioni, per cui ci sono due scenari, diciamo il primo riguarda un contesto di tour pop, per cui un utilizzo di Ableton da quel punto di vista, mentre il secondo scenario invece riguarda la parte più elettronica, per cui più macchine e spipolamenti vari. Per cui cominciamo con questa cosa qui. Allora, perché ho deciso di usare Ableton Live? Allora, Ableton Live ha un grande pregio tra i vari, cioè il fatto che è molto leggero e molto stabile, per cui in un utilizzo dal vivo è molto affidabile, non si blocca quasi mai, che funziona anche su macchine di vecchia generazione, come per esempio questo computer che è del 2014, per cui parliamo di una cosa ormai un po' desueta dal punto di vista della tecnologia, però devo dire che risponde sempre molto bene, a differenza di altri software, devo dire che non ho mai davvero mai avuto problemi dal vivo, adesso lo dico e spero che sia così. Ableton è un software modulare, per cui mi permette di incapsulare device, di raggruppare tracce a livello visivo e molto user friendly, per cui nel colpo d'occhio che noi abbiamo dal vivo, quando ci esibiamo, abbiamo subito la situazione sotto controllo. È molto pratico per gestire macchine esterne, per cui io che sono un utilizzatore, io con pezzali suono la chitarra, ma anche i synth, per cui mi sono portato queste due macchine, e dal punto di vista del MIDI è davvero molto pratico, permette di gestire arpeggiatori, cose in maniera molto facile. Ha un'ottima gestione del MIDI, per cui vuol dire che se devo programmare delle cose, sono molto veloce, riesco a scrivere, quantizzare, luppare in maniera molto rapida, è visivamente intuitivo che l'abbiamo detto, che è una cosa importante, perché il live è una cosa di velocità, è fatto anche a volte di momenti di panico, per cui è importante avere la situazione sotto controllo, e soprattutto cosa non da poco lo so usare bene, cosa che quando si fa un tour bisogna tenere in considerazione, perché devo avere la rapidità di intervenire su strutture di brani, aggiungere count, click, tracce, eccetera, in maniera molto rapida. Per cui il primo scenario è questo. Allora io quest'estate ho fatto un tour con Max Pezzali che si chiama Max 90. È un tour basato sugli anni 90, come il nome stesso dice, dove ci sono molte tracce in sequenza, perché abbiamo dovuto richiamare quel mondo lì, dei vecchi dischi, per cui andare a fare delle preproduzioni, richiamando quei suoni lì, per rimanere il più possibile fedeli agli originali, cosa che alla produzione interessava molto. Lì, in quel contesto, io mi occupo della preproduzione dei brani, per cui mi sono preprodotto tutti i brani, ricostruendoli, visto che di quei brani non esiste più nulla, perché sono brani molto vecchi, ed erano stati fatti con gli ADAT, con cose che ormai non si riescono neanche più ad aprire. Mi sono riprogrammato e riprodotto tutto, ho mandato le varie tracce ai musicisti e ho tenuto quelle che non erano suonabili dal vivo in base. Per cui ho fatto la direzione musicale, suonavo i sintetizzatori e suonavo la chitarra. Questo è un po' il contesto. Allora, dobbiamo sempre farci una domanda quando cominciamo a fare un tour e lo approcciamo dal punto di vista tecnico, cioè che cosa ci serve. E questo è importante, è una considerazione che secondo me andrebbe sempre fatta. Allora, abbiamo un po' di tracce da riprodurre dal vivo, che separiamo in base alla tipologia, per cui abbiamo una traccia di ritmica, una traccia che chiamo musica, dove ci sono dentro tutte le parti melodiche, una traccia di cori, che sono cori aggiuntivi a quelli che facciamo noi dal vivo, perché spesso serve magari della botta in più rispetto a quanto numericamente noi siamo sul palco, e poi mi tengo una traccia ausiliaria che uso per varie cose, che può essere, che ne so, in un brano ci sono gli archi, per cui mi metto una traccia di archi separata che il fonico può gestire, degli effetti, delle cose varie. Queste tracce escono ovviamente da canali separati della scheda, per cui arrivano al fonico, e il fonico le può gestire in maniera indipendente. Poi cosa ci serve? Ci serve una traccia SM-PTE, adesso immagino che sappiate che cos'è, io lo spiego comunque. SM-PTE è una traccia che contiene sostanzialmente un rumore, che indica un tempo, un po' come se fosse il rumore del vecchio modem 56K, per chi se lo ricorda, chi legge l'SM-PTE, per cui i banchi luci, per esempio, o anche il banco di sala audio, è in grado di, in base a quel rumore, capire in che punto del brano sono. Questo serve per le luci, per esempio, per i programmi degli spostamenti delle luci, acceso, spento, eccetera. E questa la devo mandare io, perché ovviamente deve essere sincronizzata col brano. Mi serve controllare il mio hardware esterno, per cui nel mio caso i sintetizzatori, ma come ho scritto, anche per esempio mandare dei program change alla batteria elettronica del batterista, il quale magari, mentre suona, non ha voglia e non ha tempo e non riesce a smanettare sulla centralina e a saltare 100 programmi al volo, per cui glieli mando io e la centralina si setta, eccetera. Anche in questa cosa Ableton è veramente molto forte. E poi, ovviamente, devo avere due tracce di click e di count che servono al cantante e alla band. Questo perché, normalmente, quello che accade è che il cantante vuole, per esempio, solo il count, non vuole il click, per cui devono essere tenute separate e ci deve essere la possibilità di gestirle in maniera separata. Allora, lato audio, quindi, che cosa succede? In questo caso uso la vista arrangement, per cui non uso la session view con le clip. Perché? Perché i brani hanno delle strutture predefinite, per cui non serve lavorare con dei loop, mi complicherebbe solamente la vita. Per cui creo un'unica sessione con tutti i brani dentro e i marker per ogni brano. Dove scrivo il titolo? In modo che non mi perdo quando li vedo. Anche a livello di comprensione, perché uno dice, sì, metto il marker, poi me lo ricordo. No, non te lo ricordi, perché dal vivo, quando sei nel panico, non te lo ricordi. Le tracce audio le raggruppo, per cui faccio un gruppo che chiamo sequenze, che posso aprire e chiudere. Anche questo mi aiuta, perché non voglio avere una sessione con 100 tracce che devo scrollare. No, la voglio avere compatta, con dei quadratini molto piccoli e visibili. Faccio un altro gruppo che chiamo Util, dove metto l'SMPTE di cui vi ho parlato prima e un mix del brano completo. Il mix del brano completo mi serve perché, per esempio, quando si fanno le prove è necessario a volte riascoltare dei passaggi perché non te li ricordi, perché eccetera, eccetera. Per cui ce l'ho lì pronta, in MUTE, quando mi serve la metto in solo e la sentiamo. Sincronizzata ovviamente con il MIDI e con tutto il resto. Mi serve anche in fase di programmazione della sessione, perché ovviamente devo infilarci dentro tutte le varie parti MIDI. avere il brano completo mi aiuta molto dal punto di vista della programmazione. Ovviamente non serve dirlo, però insomma, io dico delle cose anche magari un po' ovvie, però è anche giusto così. C'è una tempo map con la programmazione di tutti i cambi di BPM che avvengono per ogni brano, in modo che sono sincronizzato con il MIDI, eccetera. Dal punto di vista del MIDI succede questo. Allora, il click e il count vengono programmati utilizzando drum rack, che è un, chiamiamolo plug-in di Ableton, di quelli suoi nativi interni, dove infilo dentro i due suoni di click, uno che dà il downbeat, per cui più alto, pi, 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 in due caselline del drum rack, e il count sempre in un drum rack in quattro caselline con 1, 2, 3, 4, che ci serve il count, perché quando sei dal vivo, spesso magari uno ha bisogno, se c'è un finale lungo, per esempio, uno non ha voglia di contarselo in testa, si mette un count ed è più pratico. Lo faccio MIDI perché? Per due motivi. Il primo è che, avendolo MIDI, la sessione risulta più leggera, per cui io non ho un'unica traccia intera che mi bounce da un'altra sessione e la rimporto dentro, per cui dovrei avere per ogni brano una traccia di click e count, anzi, due tracce di click e count, perché poi ci sono anche quelle del cantante. No, lo faccio MIDI. Per cui diventa più leggera, perché tengo dentro solo due sample, quello dei due click e i quattro del count. E soprattutto risulta molto più semplice da editare, perché nel momento in cui ci fosse un cambio di BPM, perché arriva Claudio Cecchetto e mi dice, no, questa tiriamola su di 5, non ho bisogno di riesportarmi una traccia dalla sessione originale. Poi, invece, per quanto riguarda la parte dei sintetizzatori, succede questo. Allora, per ogni sintetizzatore metto due tracce, perché ho bisogno di una traccia, che è la traccia che chiamerò master del sintetizzatore, dove uso external audio instrument, external instrument, scusate, e quella è la traccia che comunica con la macchina. Questa traccia che cosa fa? Utilizzando le macchine, togliendo quello che si chiama il local, che è il sostanzialmente, vuol dire che la macchina non risponde più in questo modo, cioè che suona direttamente lei, ma vuol dire che la tastiera della macchina è scollegata dalla parte synth e rimane collegata solo alla parte MIDI. Questo che cosa significa? Che quando io suono una nota, il MIDI parte dalla macchina, va al computer, il computer lo rimanda indietro e la macchina suona. Perché mi serve questo? Perché se io non facessi così, avrei dei duplicati di note, perché suonerebbe sia la nota stessa che quella che il computer gli rimanda indietro. Per cui tutte le macchine hanno normalmente questa possibilità. Per cui, come dicevo, abbiamo una traccia MIDI master, cioè dove ci sono tipo gli arpeggiatori programmati che si accendono e si spengono, varie cose di effetti MIDI, e un'altra traccia ausiliaria nella quale programmerò invece le note che poi andranno a infilarsi dentro alla traccia master. Per cui la traccia master avrà in input la traccia ausiliaria. Questa cosa qui è importante perché mi permette di fare varie cose, tipo ci sono dei brani dove voglio che le macchine suonino da sole perché sto suonando la chitarra e devono suonare delle parti preprogrammate, ok. Ci sono dei brani dove invece voglio suonare io, mi permette questa soluzione qui di non dover cambiare il setup, non dover intervenire, accendere, spegnere canali, eccetera, in maniera molto facile e programmata, sempre per il motivo di qui sopra che dal vivo non c'è il tempo fisico per cambiare impostazioni tra un brano e l'altro. Altra cosa importante, le macchine, in questo caso, ma è una decisione mia, non rientrano nella scheda audio ma vanno direttamente al banco. Questo perché preferisco io non avere una doppia conversione per cui entrare nella scheda e riuscire dalla scheda che mi comporta una D e un DA e poi andare al banco che essendo digitale converte un'altra volta. Forse sono delle pippe, però insomma preferisco che sia così. Inoltre non aggiungo latenza, perché la scheda, per quanto tu possa tirarla, comunque quei 128-256 campioni in base al computer che hai, alla scheda audio che hai, più o meno ci sono sempre. Ecco, altra cosa importante della traccia MIDI ausiliare è che mi manda i program change. Altra cosa, io non posso pensare, soprattutto in macchine come questa, che adesso voi forse da lì non vedete, ma questa non ha un display con il titolo scritto, questa c'ha dei numeri. Qui uno dice, sì, mi ricordo che il 303 è quel brano lì. No, anche lì, non te lo ricordi. Nel momento in cui io assegno dei program change per ogni brano mi posso dimenticare, un po' come quando ti sei dimenticato dei numeri di cellulare perché ce li hai salvati nella rubrica, non ci pensi più. Poi, altra cosa importante, e questa è una figata, la sincronizzazione fra i due computer. Allora, abbiamo due computer perché? Perché può succedere qualsiasi cosa, cioè, voglio dire, gli cade sopra una martellata, si rompe, si blocca, qualsiasi cosa, deve esserci un computer B che subentra nel caso in cui il computer A vada in fail. La sincronizzazione del computer l'ho fatta usando una patch di Max4Live che si chiama LiveSync, che è gratuita e si trova in questo sito che vedete scritto sotto. Ed è una cosa molto semplice, semplicemente si crea una traccia vuota, si carica sopra nel computer A la patch leader e nel computer B la patch follower. La patch follower e la patch leader comunicano attraverso un cavo di rete. Si può fare anche via wifi, volendo. Non lo farei dal vivo, perché io mi ricordo che una volta quando si facevano ancora i concerti c'era questo posto a Roma che si chiamava Capannelle, dove non è lontano dalla torre di controllo di Ciampino, per cui non andavano neanche gli in-ear. Cioè era una cosa impensabile, per cui cavo tutta la vita. Semplicemente si apre da una parte la patch leader, da una parte la patch follower, si linkano tra di loro, uno va in play da una parte e l'altro lo segue. Come funziona il fatto se uno dei computer va in fail? Semplicemente il computer master smette di funzionare, l'altro continua a funzionare. Ovviamente è un setup doppio che io ho riassunto. Ecco, le mie capacità di grafico sono pessime, per cui perdonatemi. Però sostanzialmente sono due computer con due schede audio che vanno dentro a un aggeggio che si chiama Switch, il quale è controllato dall'SMPTE. Ecco perché l'SMPTE mi viene utile in qualsiasi contesto. Cioè finché lui sente l'SMPTE che gli arriva dal computer A, lui sta switchato sul computer A. Appena il computer A va in fail, l'SMPTE smette di arrivare allo switch, lo switch switcha sul computer B. Il quale continua a funzionare come se nulla fosse, per cui in realtà tu non hai a livello acustico, non c'è nessun salto, perché è tutto perfetto. E questa cosa qua ci ha risolto un bel po' di problemi, perché sincronizzare due computer non è una cosa così banale come sembrerebbe nel 2021. Altra cosa, come mi muovo all'interno della sessione? Allora, all'interno della sessione io non voglio usare il mouse o il trackpad, perché il trackpad è una cosa che con le dita sudate di un live, eccetera, i tastini del computer non è pensabile. Per cui mi sono programmato una superficie di controllo, è una cosa che ho fatto con un iPad molto vecchio, che adesso si è anche girato, ok, e con un software anch'esso molto vecchio, che deriva da un hardware che esisteva tanti anni fa, che si chiama Lemur. Ed era un aggeggio, prima che uscissero i primi iPad, c'era questo aggeggio Touch, che tu programmavi con una sua applicazione esterna e gli mettevi i tastini, play, stop, eccetera, quello che vuoi. Questo, che è una cosa che forse anche questo è un po' poco in uso al momento, in realtà a me torna sempre molto utile, perché che cosa faccio? Faccio un tasto per ogni brano. È molto semplice. A ogni tasto assegno un program change, un control change, quello che voglio, e assegno ogni tasto a un marker, per cui mi riesco a spostare sulla sessione in maniera molto veloce. Questo mi consente anche di non avere la sessione ordinata per brano, che è un'altra cosa che, voglio dire, durante il tour le scalette cambiano, si aggiungono cose, lì io semplicemente lo posso mettere in coda e poi metto un tasto e lui si sposta lì. Faccio il play, stop, usando il protocollo Macchi, per cui lui viene riconosciuto come se fosse un device col protocollo Macchi e semplicemente io il computer non lo guardo più. Cioè lo guardo nel momento in cui succede qualcosa di imprevisto, però in generale io ho il mio iPad lì, play, stop, scelgo il brano. Passiamo a vedere la sessione. Per cui ricominciamo da qui. Come vi dicevo, la sessione appunto è per una mia esigenza molto ordinata. Sono tutti gruppetti che sono, come vi dicevo, come si vede da qua sopra, ci sono dei marker con i titoli dei brani. Allora nel primo gruppo che si chiama Utils abbiamo dentro, come vi dicevo, le tracce originali che ci servono per ascolto in caso di dubbio sulle stesure o sugli accordi, che ne so. Il famoso SMPTE, il quale esce, adesso non guardate qui perché non sono assegnate le uscite non avendo la scheda audio che usavo in tour, per cui sono tutte in grigio. l'SMPTE che a questo punto vi faccio anche sentire, così siamo contenti, che è questo suono qui, che sembra tutto uguale, in realtà è un indicatore di tempo, ore, minuti, secondi e appunto millisecondi o centesimi di secondo, non me lo ricordo, sono suddivisi per, vedete che ogni timecode, si chiama timecoding in realtà per semplificare, ha un nome e questo nome ti dice l'ora e i minuti a cui parte, questo qui per esempio parte dal minuto 10, questo parte dal minuto 20, 30 eccetera, mi tengo 10 minuti per ogni brano perché ho un margine in questo modo e se il brano ovviamente dura molto meno, se ho la necessità di allargare la stesura del brano perché si vuole aggiungere un finale, un ritornello o qualsiasi cosa, semplicemente prendo, tiro la tendina o la accorcio e posso andare avanti senza incorrere nel rischio di intersecarmi con l'SMPT e successivo perché altrimenti perde di significato tutto l'utilizzo di questa cosa. Per cui questa traccia va al mixer di luci o a chi ne ha bisogno, per esempio anche i video nei tour dove ci sono i video, questa cosa è essenziale e poi ne ho fatta un'altra la quale prende in input semplicemente questa, siccome avevo bisogno di mandarla alla radial che è lo switch di cui vi ho parlato prima, ho bisogno che esca da un'altra traccia, da un altro canale della scheda per cui invece che duplicare la traccia per intero ho semplicemente ne ho fatta un'altra vuota che prende in input questa qui. Così se modifico la stesura, la prima traccia, non ho bisogno di modificare anche la seconda perché la prende in input. Tutte cose che servono a essere più veloci, che la velocità purtroppo è tutto. Allora qui abbiamo le tracce dei click e dei count, anche queste le ho raggruppate, uno è il gruppo band e uno è il gruppo Max, sono essenzialmente uguali, Max è il cantante ovviamente, sono essenzialmente uguali con la differenza che per esempio Max non ama sentire il click durante tutto il brano perché lui segue il batterista per cui per esempio ci sono dei brani dove magari questo brano qui per esempio c'è un intro di pianoforte, di piano solo per cui lui segue il click e poi il click a un certo punto come vedete qui va via e lui canta sulla batteria. Per cui ogni gruppo esce da una coppia di canali diversi della scheda perché quello della band andrà agli ascolti della band e quello di Max andrà agli ascolti di Max e la band non sente il count di Max e viceversa. Come vi dicevo, questa cosa qui l'ho fatta con un drum rack che è questo, dove ho questi due suoni di click che alterno e stessa cosa vale per il count dove ho che è molto così. Per cui sostanzialmente quando parte il brano ci sono due battute libere che servono per entrare. Ve la metto in solo. Usate. E parte il brano, no? Una cosa molto semplice, molto lineare. In questo caso c'è un'altra traccia che ho chiamato shaker perché in un certo punto della sessione, per esempio qui mi sembra, dove c'era un medley tra due brani che sono, chi se lo ricorda, una canzone d'amore come mai, a un certo punto c'è un rallentando di BPM se andiamo a vedere qui nella sessione nella tempo map eccola qui qui c'è un rallentamento da 83 a 74 il pianista mi ha detto sai, visto che devo partire e fare l'intro di come mai che è una delle cose più importanti a livello pianistico dei brani pop della storia italiana degli anni 90 lo shaker che fa questo movimento qui sentite che c'è un mi aiuta a entrare meglio nel tempo perché il rallentando è sempre un po' una cosa un po' strana da suonare e questo è per quanto riguarda la parte click e la parte count la parte delle sequenze è questa qui per cui abbiamo batteria musica cori e la famosa traccia ad dove ci sono varie cose per cui per esempio una tipicità di questo tour è che Claudio Cecchetto mi ha detto dobbiamo fare tutti gli album degli anni 90 degli 883 che sono quattro forse non me lo ricordo esattamente ovunque sono sull'ordine dei 40 brani dovremmo farli tutti ma tutti non si può perché viene un concerto di quattro ore che cosa si è inventato usiamo dei chiamiamoli jingle per cui dei frammenti dei brani che non suoniamo li mettiamo come intro di alcuni brani ad esempio tipo questo qua mi sembra che sia uno uno parte questo dove noi non non suoniamo qui inizia il count qui entriamo noi entra una parte di tastiera e qui parte il brano per cui la traccia ausiliaria mi serve anche a mandare questi frammenti perché? perché il fonico deve poter gestire il volume di sta roba qua perché potrebbe essere che serve più canna o meno canna ma non può cioè se tu alzi tutto alzi anche tutto il resto invece è importante averla averla separata per cui ci serve sia per questo per altre cose che ne so tipo appunto mi sembra che ecco per esempio qui ci sono degli archi insomma varie altre cose che mi possono servire che mi possono servire ecco e questo per quanto riguarda la parte audio allora qui invece poi abbiamo la parte midi la parte midi come vi spiegavo prima sono due gruppetti io mi sono portato appunto queste due macchine che voi non vedete riprese perché mi sa che la telecamera non le becca sono due synth analogici visto che io sono un po' appunto così maniaco di queste cose mi servono per fare prevalentemente arpeggiatori e pad io non sono un tastierista suono poco per cui non suono parti di pianoforte eccetera mi serve per fare delle parti di elettronica aggiuntiva che invece di mettere in sequenza magari le programmo su una macchina e interagisco con il filtro faccio delle cose un po' più da da elettronico ecco più che da che da chitarrista magari mentre suono la chitarra per cui ce le ho qui pronte faccio due robe smanetto eccetera che mi diverte anche secondo me a livello estetico è un po' più carino che sentire un arpeggiatore che parte e non sai mai da dove viene esempio uomo ragno questa roba qua è programmata tranne il filtro e mi diverto a farlo più io dal vivo perché poi per esempio c'è un punto del brano dove Max fa cantare il pubblico la band si ferma rimane solo l'arpeggiatore e io a sensazione di come lui interagisce col pubblico chiudo di più il filtro lo apro eccetera diventa una cosa un po' meno precostruita diventa una tastiera che suona davvero per cui comunque c'è una pasta diversa perché il suono è molto più grezzo se vuoi molto meno trattato eccetera il fonico se lo può gestire come vuole e secondo me è un po' più interessante per cui ogni macchina c'ha il suo gruppetto dentro al gruppetto ci sono le due famose tracce di cui vi ho parlato prima per cui pigliamo l'OB6 che è questo qui che ho usato ora come vedete la traccia out è quella che io sulle slide ho definito master in questa traccia che cosa abbiamo abbiamo un midi effect track cioè un un incapsulamento di effetti midi in questo caso ne ho usato solamente due cioè anzi uno in realtà perché uno è una è senza niente un'altra è con l'arpeggiatore mi seleziono l'effetto midi che voglio usare con questa manopolina che poi ho automatizzato sulla sulla traccia per cui passando praticamente da empty che è il suono senza arpeggiatore a questo che è il suono con l'arpeggiatore questa automazione ovviamente me la faccio su ogni brano per cui aspetta dov'è non la vedo ah sì è questa perché è qua sotto ecco eccola qui è questa lineetta qui che qui infatti si vede che c'è un'automazioncina e ok per cui sostanzialmente questa traccia cosa fa riceve il midi e lo rimanda alla macchina stessa in questa traccia qui invece che è quella famosa ausiliaria ho le parti midi che mi sono programmato per cui per esempio torniamo sull'uomo ragno che siamo sicuri che funzionava questa qui è la programmazione midi dell'uomo ragno eccola qui eccetera questa traccia qui praticamente va in input sulla traccia master della macchina per cui semplicemente il midi che gli arriva è quello che poi si sente fuori voi state sentendo la tastiera perché la tastiera va dentro un mixer non perché esce da Ableton ok per cui non c'è una traccia di ritorno dallo strumento è semplicemente gli arriva semplicemente il midi stessa cosa vale per l'analog keys dove appunto ho delle cose suonate e ovviamente altra cosa ho i program change per cui ogni regione di ogni midi che viene suonato se noi andiamo a vedere aspetta perché adesso è cambiato eccolo qui io ho il richiamo del program change della macchina stessa per cui mi libera dalla necessità di dover cambiare suono mentre mentre mi mi esibisco questo è all'incirca tutto quello che che dovevo dirvi su questa parte qui è una cosa abbastanza semplice abbastanza lineare non è nulla di esoterico ed è anche per questo che secondo me è importante capire che serve essere molto semplici in questo tipo di situazioni qui perché l'emozione le cose giocano poi dei brutti scherzi per cui è importante avere una situazione molto lineare di facile editabilità per cui nel momento in cui appunto come dicevo prima ho bisogno di intervenire devo poterlo fare in maniera molto facile per cui deve essere tutto molto leggibile tutto molto lineare senza troppi accrocchi strani un'altra cosa che non vi ho detto a proposito di accrocchi strani è che a un certo punto in questo brano che è sei un mito utilizzo questa particolare patch di max4live che in poche parole siccome sei un mito c'ha una figura di arpeggiatore che non è ma è pa 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 l'arpeggiatore di live in maniera nativa non lo fa ho usato questa patch di Max for Live che muta delle note che gli arrivano per cui riesco a creare quella figura lì la cosa di Max for Live che si tende forse un po' a non conoscere nel senso uno non ci pensa mai in realtà devo dire che uno dei grandi pregi di Ableton è proprio questo che esiste una library infinita, costruita dagli utenti ovviamente, di device per Max4Live, i quali, cioè se tu vai a cercare lì, sicuramente trovi quello che ti serve, ma sicuramente, cioè sfido davvero qualcuno a non trovare la cosa che serve in quel momento lì. E devo dire che è l'unico software che ha questo tipo di interattività e questo tipo di possibilità di espansione che poi chiaramente se uno è in grado di programmarselo, ancora meglio. Per cui niente, insomma, questo è un po' tutto.